Sì, anche quest'anno il Thermory Jazz Festival ricopre uno spazio molto importante all'interno della 64esima edizione dell'estate termolese. Quest'anno, oltre a ritornare in maniera prepotente con nomi importanti del calibro del jazz italiano, ma del jazz internazionale, torna soprattutto all'interno della location naturale del Thermory Jazz Festival, ovvero Piazza Duomo. Purtroppo l'anno scorso, per via della situazione pandemica, siamo stati costretti, insieme all'organizzazione del festival, a spostare il tutto all'interno del Teatro Verde. Quest'anno siamo felicissimi di poter ritornare, ripeto, nella location naturale del Thermory Jazz Festival, perché questo rimane sì un grande evento di carattere musicale, ma è comunque un modo, come un altro, per sottolineare, per evidenziare quelle che sono anche le bellezze della nostra cittadina. Quindi all'interno del Borgo Antico di Thermory credo che sia lo scenario più appropriato. È un plus per la nostra cittadina, per lo sviluppo culturale, ma così anche come lo sviluppo turistico della nostra città. E il Thermory Jazz Festival, ribadisco che comunque è un evento di punta, un evento di qualità, rivolto naturalmente ad un pubblico di qualità ed è quindi una perla per quanto riguarda la nostra programmazione degli eventi estivi.